un Vinicio Caposela, un jazzista, si dedica al jazz tra un altro, qui abbiamo un altro chitarrista Silvano Ori che anche lui fece parte, non so se registra qualcosa anche con i Nomadi addirittura chitarre acustico e quant'altro, qui abbiamo un fotografo aereo cresta, qui c'è Anderlini suonava l'armonica, l'armonica bocca, poi abbiamo, qui invece ci spostiamo, a parte che ci manca molta gente, comunque questa è la ala diciamo più del Bar Italia, c'è Franco Tedeschi, Franco Ciccio Tedeschi, qui c'è Sant Claudio Santini, poi abbiamo Maurello, Maurello Giberti, Rumba qua, e poi ci sono delle foto dove appunto loro sono presenti ma sono nella, sono in bianco e nero, sono nella parte dei provini diciamo, questa era fu, si decise che era la, cioè doveva diventare la foto ufficiale del disco e per cui se essero questo, ma io diciamo sono, avevo subito una forte attrazione verso questo bar, perché io mi ricordo che frequentavo a un bar, i miei Bonaccini, non mi ricordo neanche più, insomma, dove c'erano degli amici, pomeriggio partì, andai in centro verso Modena, perché ero tratto dal centro, vedi questo bar, non mi ricordo se ne aveva sentito parlare, però decisi che, insomma, cominciai a frequentare a questo bar, e dì appunto, sì, io suonavo, suonichiavo, non mi interessava più la compagnia, poi, insomma, sono venuti a sapere che suonavo e abbiamo cominciato appunto a fare delle, a fare delle gem sesson insieme, fino a quando non connobio appunto Corrado Bacchelli che mi chiese di entrare e far parte di, prima con la Cristina Hansi, un po' più Roccott e poi nomadi e... Dopo invece, quando la Cristina ha smiso, oppure ha deciso di fare l'attrice, non ricordo, andammo su Autoria Asti ad accompagnare Piero E. Cottonfields, Piero Cotto. Chi era questo? Eh, era un cantante abbastanza in voga, allora, lui ancora, cioè, tra l'altro, suona, canta ancora, fece anche dei dischi, tra l'altro. E, no, era un cantante classico, tipo alla Chicago, un mistrofa, genere sentimentale, melodico, aveva una voce rauca abbastanza valida, andammo, cominciavamo, cioè, noi eravamo un'orchestra e come orchestra andavamo, addirittura andammo giù, quindi si sono in un mese in Sicilia a suonare, gli incontri a Bezzef e poi andammo al Piper a Roma addirittura, al Piper, sì, sì, al Piper, quindi si sono, con i rocks c'era no, no, sì, sì, proprio il Piper nel periodo d'oro. Praticamente io, a 15 anni, con nobico Rado Bacchelli, che fu il produttore dei Nomadi, Alan Sorrenti, e qua siamo con il primo gruppo che accompagnava la sua ragazza, la Cristina Hansen, che era la sua fidanzata, sì, la sua fidanzata, però cantava e faceva anche, fece la comparsa in un film di Fellini, tre passi nel delirio. Allora lui aveva bisogno, cioè, insomma, ci conoscevamo perché appunto il Bar Italia era frequentato da questi personaggi, produttori e non, e per cui mi chiese di, per una strana amalgama, una sorta del destino, di entrare subito a far parte di questo gruppo, che poi continuò ad accompagnare Piero i Cottonfields di Asti, Piero Cotto, Piero i Cottonfields. Qui siamo al Bar Italia, di fronte al Bar Italia, qua davanti addirittura, quindicenni però, questa era la sala prove, qui al basso appunto con Cristina Hansen, questo invece il primo concerto che fece a Modena, il Circolo della Stampa, con Gianfranco Anderlini all'Armonica, il Circolo della Stampa era in via Canal Grande, un locale abbastanza nuovo per quei tempi, qui eravamo su a un concerto e questa era parte, diciamo, del primo gruppo. Poi dopo 8-9 mesi, frequentando il Bar Italia, proprio un giorno mi ricordo Corrado, mi disse vuoi venire a suonare ai nomadi? Ho detto, sì sì, va bene. Allora sì, ho mollato il gruppo che c'avevo, sempre buoni rapporti, perché è logico, sì, non è che c'era. E abbiamo cominciato a fare delle prove per diversi mesi giù a Novellara. Ho avuto occasione di vederli quando avevo 13 anni, che facevano le foto per l'LP, un figlio di figlio, no, noi non ci saremo, per quando non ci saremo, un figlio bellissimo. Mi ricordo che li vidi con questa Ford Escort, avevo una Ford verde e andai verso di loro perché gli autografo. Avevo avuto 13 anni, perché loro avevano tutti 7 anni in più di me. Io quando avevo 18 anni, loro ne avevano 25, ma questo me lo ricordo proprio come se fosse. E appunto il segno del destino ha voluto che entrassi con loro, abbiamo cominciato a fare delle prove, perché noi a quel tempo facevamo, il repertorio era diviso in due parti. Siccome in Europa in quel periodo c'era l'onda progressive, c'erano gli Yes, le Zeppelin, c'erano i Genesis, loro, in questo periodo loro erano un po' fermi ancora agli anni 60, ma un po' tutto l'ambiente musicale era fermo in quel periodo. Allora insomma ci voleva una spinta nuova, una innovazione. Allora cominciamo a preparare delle cose un po' copiate, un po' arrangiate da noi, sulla falsa riga dei Genesis, cioè arrangevamo dei pezzi. Lo spettacolo era diviso in due parti, c'era la prima parte arrangiata con tutte queste cose nuove, la seconda parte invece dei vecchi brani loro riproposti, poi con San Vensan arrivavamo in semifinale e poi arrivò qualcun'altro, però siccome vendete un sacco di copie, questo è Io e Vagabondo, loro decisero di ritornare sulle vecchie orme, riproporre i loro programmi, i loro repertorio. Allora lì ci dividemmo, dopo nove mesi io ripresi poi a fare l'orchestrale. da sono molti.